Io ero già convinta già dalla fine del 2019. La questione del Covid ha accelerato poi tutto perché sarà un autunno molto duro, molto complicato. Oggi non ce ne rendiamo ancora conto di quale sarà l'impatto nel mondo del lavoro perché ci sono ancora un po' di ammortizzatori sociali, ma sarà molto dura e proprio per questo io non mi sento in grado in questo momento di affrontare una cosa che richiederà veramente tanto spirito positivo e tanta capacità di proposta. Marina Molinari spiega così il suo addio alla CISL dopo 22 anni. Dal 23 luglio, giorno del prossimo Consiglio Generale, non sarà più segretario di Parme Piacenza per tornare a fare la maestra elementare. Per moltissimi piacentini il suo nome è legato soprattutto all'attività nel sindacato della scuola che ha guidato fino al 2010, prima di diventare il primo segretario donna della CISL di Piacenza. Per me sono stati anni molto belli di lavoro nella CISL scuola, molto gratificanti, con un grandissimo contatto con la gente. Ho avuto in questi giorni tantissime attestazioni di stima dalle mie bidelle, dai miei insegnanti, da tutte le persone con cui ho lavorato. Sono stati anni, la voglio citare, di grande collaborazione con la CGL scuola, allora c'era Raffaella Morsia e abbiamo veramente fatto delle grandi battaglie che io penso che di cui ancora oggi si leggono dei segnali positivi nella scuola. È cambiato un po' tutto. Oggi non ci sono neanche più gli interlocutori territoriali contro cui farà la battaglia. Nel 2013 poi la fusione con Parma, maxi sindacato che guida dal 2018. Abbiamo fatto un'unificazione con Parma da cui usciamo più forti, quindi più strutturati, più forti. Abbiamo capito che non sempre il piccolo è bello, dagli altri si può imparare qualcosa e oggi andiamo verso un sindacato molto forte che ha circa 55 mila iscritti, quindi un sindacato che rappresenta, secondo me, a tutti gli effetti questo nostro territorio. Ora l'attende il suo prossimo incarico. Dell'Istituto Comprensivo di Pianello andrò a parlare nei prossimi giorni con la dirigente scolastica che dovrà decidere dove mi destinerà dentro questa area dell'Istituto Comprensivo di Pianello. Quindi torno anche, un ritorno anche ai miei luoghi di origine perché io sono dell'Alta Valtidone, territorio che amo tantissimo.